Startup Music Lab Come gestirsi per proseguire nel proprio percorso artistico però dal punto di vista professionale? Se sei un artista, un cantautore, un rapper, qualcuno che ha intenzione di produrre musica e arte e comunicarla con il web Abbiamo un'occasione per incontrarci Iscrivetevi sul sito giovani.unina.it Cercheremo io insieme ai miei colleghi di trasmettervi questa energia e anche le conoscenze e le competenze per poter fare un percorso da indipendenti C'è tempo fino al 5 giugno, a presto ti aspettiamo E ci vediamo Al cursul Si te nevuie Ma dà stai stai Nu-mi s'appara ne oaie A presto A presto A presto